Salve carissimi amici, tutto Ubi, sono Francesco e bentornati nella soffita di camera mio, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla, quest'oggi parliamo del Dilan Dog numero 397 meno 3 alla meteora, Morbo M, una storia che vede una splendida copertina di Gigi Cavanago una storia di Paola Barbato, se non ricordo male, per i disegni bellissimi di Corrado Roy disegni bellissimi, non penso di aver bisogno di dire molto altro sui disegni, la copertina l'avete vista è una gran bella copertina con queste belle atmosfere di che cosa ci parla questo Morbo M? la storia comincia con un pochettino in media stress è passato del tempo rispetto ai numeri precedenti abbiamo un Dilan che è fidanzato con una ragazza anche piuttosto carina ma è che ha contratto questo Morbo M un Morbo, una vera e propria malattia, un virus comunque che sta infettando buona parte sicuramente degli abitanti di Londra con esiti diversi diciamo che ci sono persone che hanno male in un certo punto ci sono persone che hanno male in un altro punto però tendenzialmente sono tutte persone che si vengono identificate in vari ceppi questa malattia si divide in vari ceppi, però è sempre lei e poi ci sono i figli della Meteora che altro non sono che persone che in un certo punto impazziscono, diventano mostruose tendono a uccidere e distruggere qualunque cosa davanti a loro la ragazza di Dilan è ammalata di questo Morbo M e Dilan vorrebbe curarla si viene a scoprire che molto probabilmente una cura da qualche parte c'è e Dilan insieme a Block faranno di tutto per cercare di trovare questa cura questa qui è un attimino la trama una trama molto semplice molto semplice, molto funzionale legata al ciclo della Meteora magari in una maniera un pochettino più stretta rispetto ad altri episodi di questo stesso ciclo cosa che effettivamente mi sarebbe piaciuto vedere un pochettino di più per quanto rimanga un pochettino comunque vaga abbiamo avuto recentemente un episodio dove siccome c'era l'influenza della Meteora le giornate duravano un ciclo di 24 ore in queste 24 ore si alternavano le stagioni qui siamo passati che è estate è caldissimo nonostante sia novembre nonostante sia ottobre va bene gli effetti della Meteora sono un po' vaghi non ho capito bene come devo prendere un pochettino il ciclo e la continuity di questo ciclo della Meteora devo essere abbastanza sincero ho qualche problema di comprensione nel capire come le cose si sono coordinate e se si siano effettivamente coordinate perché sulle storie in sé ve l'ho detto anche la storia precedente è una storia che ho sentito aspramente criticare da molti ho una storia che ho visto molta critica su quella storia lì mentre io l'ho difesa ma l'ho difesa dicendo sì, non è una storia incredibile è una storia che si prende un 6 molto tranquillamente perché è una storia che funziona c'è i suoi momenti c'è le sue scene c'è i suoi personaggi c'è le sue cosine è un filmetto di serie B horror che però funziona non è un film B di serie B brutto è un film di serie B che comunque diceva le sue questo Morbo M è su una qualità nettamente più elevata mi è proprio piaciuto di più l'ho trovato molto più interessante anche per il messaggio di fondo che Paola Barbato vuole dare a noi lettori un messaggio di fondo molto importante molto bello il fatto che si voglia riflettere tramite questo Morbo sull'umanità è molto bello e molto importante il fatto che lo si faccia in riferimento ad una malattia e soprattutto al tipo di cura che serve per curare questa malattia è bello è una bella sensazione in quest'albo qui mi è piaciuto proprio Paola Barbato ha fatto un buon lavoro di cercare di riprendere i personaggi mostrarci un pochettino come stanno chi sono in che relazione sono la relazione tra i personaggi che è vitale è assolutamente vitale e qui sì non avrà fatto un lavoro chissà quanto articolato ci saranno ci sono dei momenti dove ti viene da dire sì magari ecco diciamo che entrare in una super mega base segreta dovrebbe essere un pochettino più difficile però accetti anche passivamente questa cosa qui perché perché il messaggio di fondo dell'albo è un messaggio che vuole vuole Paola Barbato vuole mandare un messaggio al lettore e non ha bisogno di complicare troppo le cose non ha bisogno di rendere impossibile la vita del protagonista anzi ha bisogno di semplificargliela e quindi dove non serve inserire pagine pagine di complicazioni si aggira ad un ostacolo cosa che potrebbe far storcere effettivamente il naso ma perché si vuole arrivare ad una fine ad una conclusione e quest'albo qui secondo me ha al posto giusto un disegnatore adatto Corrado Roy è un disegnatore che ho avuto modo di apprezzare visivamente sempre molto bello un disegnatore che ho avuto modo di apprezzare anche e soprattutto con Uth che se non ricordo male era sempre in coppia con Paola Barbato anche se lì Paola Barbato ha più fatto un lavoro di revisione delle idee che Corrado Roy aveva cercato di sistemare un pochettino di cose creare una una sceneggiatura omogenea tra le parti però molte delle idee erano quelle proprio di Corrado Roy qui ovviamente penso che la cosa sia all'inverso di Paola Barbato che ha dato le indicazioni a Corrado Roy su cosa doveva fare su cosa doveva inserire su come doveva inserirle però effettivamente Corrado Roy è un disegnatore che ha bisogno di mostrare l'umanità ha bisogno è proprio in grado di mostrarti lo specchio degli esseri umani e quindi in una storia come questa come disegnatore l'ho trovato più che azzeccato l'ho trovato proprio quello adatto a e penso di avervi fatto vedere qui all'area sinistra un paio di tavole proprio tratte da questo albo nello specifico in definitiva è un albo che mi sento di consigliare vi posso dire che mi è piaciuto che sono stati 3,90 euro spesi bene è un albo che mi è piaciuto leggere ma proprio tanto mi ha fatto proprio mi ha dato una carica proprio in virtù del finale questa storia e del messaggio che la barbato voleva mandarci mi è piaciuto molto per le relazioni tra Dylan e Block la sua fidanzata non mi è proprio piaciuto le ultime 2-3 pagine il finale finale l'ho trovato un pochettino buttato lì però accettabile comunque non è qualcosa di dire oddio è una mina la qualità della storia no non mina la qualità della storia però effettivamente continua ad avvertire un peso in questa continuity questo ciclo della meteora che tende a non emergere tende a rimanere un insieme di storie un pochettino inserite lì anche a forza con una coordinazione che doveva essere maggiore soprattutto se si voleva creare una continuity stretta che non si è creata cioè si poteva anche dire effettivamente cioè al di là del fatto che per me continuity stretta è quasi più una storia unica in questo caso erano 12-13 parti ok in questo caso qui è una storia con uno continuity quindi non è proprio stretta una maglia stretta di quelle che l'albo finisce e quello dopo comincia effettivamente da lì non è mai successo in questo ciclo della meteora quindi non è questo tipo di cronologia stretta e ci poteva anche stare delle variazioni però boh sti poteri sti influssi della meteora sono rimasti per me troppo vaghi troppo aleatori troppo imprevedibili cambiano di albo in albo e boh e se per alcuni ho apprezzato delle idee che ci potevano stare cioè in una continuity come quella che stavo pensando quindi non stretta che quindi deve iniziare l'albo là dove finiva quello precedente ma anche lasciando passare del tempo lasciando che ci fossero diversi spunti cosa fattibilissima per esempio l'albo del tipo che spaventato cerca un rifugio fuori dalla terra per potersi salvare era un albo perfettamente in linea con le tematiche secondo me di questa meteora poi il motivo per cui è andato fuori il motivo secondario è pessimo però ok anche perché poi questa meteora lì faceva resuscitare le persone e poi non ha più fatto niente ha permesso alla tipa di liberarsi era qualcosa del genere non ho riletto quella storia in fretta però mi è venuta in mente c'è stato un episodio dove c'era un ciclo della stagione infinito poi è finito l'effetto è finito adesso è tutto normale boh ma soprattutto uno secondo me di quelli che erano i punti di forza come iniziava sta meteora ce lo ricordiamo come era iniziata sta meteora con John Ghost che aveva fomentato un pochettino anche gli emuli di Dylan aveva mostrato che Dylan poteva essere un pochettino una figura positiva e c'erano degli emuli di Dylan che facevano cose l'han fatto per mezzo capitolo e poi non si sono più visti quelli che fine hanno fatto ci verranno presentati nei prossimi ci verranno ripresentati nei prossimi due numeri allora perché introdurli così presto e soprattutto perché non hanno mai realmente operato visto qua come venivano spinti insomma problemi di continuità secondo me ci sono stati anche abbastanza evidenti non dico che hanno reso le storie illegibili questo assolutamente no però ecco mi dici che è un ciclo di 12 storie mi aspetto che il ciclo sia un pochettino più stretto nelle sue maglie o che perlomeno sia più leggibile certe meccaniche e non che siano belle storie vagamente correlate a perché questo è un po' l'effetto che mi ha dato questo ciclo quest'album nello specifico mi sento di consigliarlo non sarà un capolavoro però è una storia onesta che fa il suo e questo è quanto voglio dire per oggi qui sotto uno spazio commenti aspetto vostre opinioni avete letto questo Morbo M vi è piaciuto non vi è piaciuto che cosa ne pensate in generale scrivetemelo e ditemelo qui sotto uno spazio commenti qui da Francesco il popo alle mie spalle dalla soffitta di camera meno più soffitta è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao ciao